Parcheggiano la loro auto accanto a un motorino in sosta, uno dei due scende e si guarda intorno Poi fa scorrere il portellone posteriore della macchina Prende lo scooter, lo porta verso l'auto, una Chrysler grigia e con il complice spinge il motorino nel vano posteriore con i sedili abbassati L'operazione non dura più di 15 secondi Poi i due con calma salgono a bordo e si allontanano Grazie a questo video i carabinieri di Figline Valdarno hanno riconosciuto l'avventura e due tunisini 45 e 33 anni Anche loro di Figline, autori di questo e di altri furti